Siamo molto carichi i gasanti stasera perché siamo per dare il via a una grande festa al lancio del nostro nuovo disco. Sarà un concerto, una festa, veramente una festa swing, elettro swing di tutti per ballare, per divertirci con la nostra musica, la musica dei T-Shots. Siamo molto carichi i gasanti stasera perché siamo per dare il mio disco, la musica dei T-Shots. Grazie a tutti.